ciao amici di youtube bentornati in questo nuovo video oggi siamo qui per pullare Baizu sia su il mccount che su quello degli altri ragazzi che hanno pullato in realtà io sono qui più per cave che per Baizu perché io rimasta molto male che cave non sia un 5 stelle però ormai rassegnata tutto ciò sono qui per prendere più cave possibile se riesco quindi l'obiettivo è quello ad ogni modo cerchiamo anche di prendere Baizu ovviamente ho il 50 e 50 pt21 ci arriva tranquillamente a prenderlo se non perdo il 50 e 50 meglio se lo perdo più contento per il video quindi niente io vi auguro comunque una buona visione sia per le mie pull che per le successive che sono quelle della community e noi ci ritroviamo ovviamente in un prossimo video o a tema Genshin o a tema Starrail e quindi non perdetevi tutti i video sul canale iniziamo la ricerca dei cave quattro stelle più cave escono più sono contenta se escono se non escono si insiste cioè a me non lasci zero la voglio prendere la questione principio a me non cave potrò averlo uno vabbè gli altri in più tutto di guadagnato ok molti delle armi molto bene si inizia molto bene molti delle armi multifortunata siamo appiti 41 quattro stelle che è garantito del banner doppio cave doppio cave doppio cave doppio cave doppio cave è dura perché il quattro stelle in realtà in fondo alla multi se non c'è il doppio così quindi doppio è dura è molto dura allora molto bene c zero ce lo abbiamo molto bene molto bene bravi amici bravi 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 vi siete impegnati bene un cave ce lo abbiamo mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia si vede proprio che il conquilino di mio marito hanno lo stesso charm hanno lo stesso charm molto bene molto bene molto allora lo stesso charm pt 41 siamo adesso chiudendo la multi cave l'abbiamo trovato nuovo chef kiss bene e uno ce l'abbiamo adesso ne mancano due poi si può fare festa andiamo a pt 51 ci avviciniamo pian piano al soft con calma c'è tempo c'è tempo ancora prima del soft pt quindi puntiamo a quattro stelle come vi ho detto priorità ok a inizio multi mi va molto bene perché ce n'è un secondo cinque sta il glitter li accetto volentieri ah non vi ho detto quattro stelle of banner quattro stelle of banner farusan mica basta sono gli unici due che non ci sei in questo momento dei quattro stelle esclusi quelli del permanente farusan e mica nel caso in cui voglia dare una copia di qualcuno che non sia nel banner in rate up ok ok quindi il quattro stelle è proprio a inizio multi va bene 61 subito è il quattro stelle è subito subito istantaneamente cave no official va bene sta il glitter sta il glitter vediamo magari qui mi esce doppio sì di nuovo inizio multi no quindi dammelo il doppio no tutte le volte devo fare un inizio multi mi sento anche un infarto no ragazzi se no poi ci si sente male per davvero allora vediamo se ce n'è un altro entro alla fine ok mi sa che è finita la multi dopo questa di nuovo ancora infartino 71 infartino ok quattro stelle ok giustamente mancava ne mancava una del banner ne mancava una ora facciamo le singole perché siamo al soft facciamo le singole facciamo al soft ok ma almeno in questa doppio me lo potrebbe dare così almeno togliamo stanza ok quindi prima singola adesso ok vabbè adesso però la sminchiamo questa cosa perché questa è la prima singola si va a 72 e è un quattro stelle così che dopo quando tiriamo le multi non sarà la prima al quattro stelle quindi questa è 72 che ha quattro stelle garantito eccolo qua io come albi io come albi 73 un altro quattro stelle vediamo ok and this fantastico vabbè ci rifacciamo una multi alla fine e 74 mi rifaccio una multi dopo raghi quattro stelle ok tre stelle meno male ok siamo al soft ora doppio vai 5 stelle quindi 75 arma 76 77 78 79 yes vinto il che è un problema perché devo continuare a pullare però vinto 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 molto bene mh 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 pt1 pt2 pt2 pt3 c1 di cave grazie 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 pt4 pt5 dovrebbe essere finita la multi Alla molti buon appetito Questa è quella che io vi dicevo prima Alla molti buon appetito E' questa Cioè a pt5 io voglio qualche cave Pt15 Pt15 nel banner di Ganyu perché si Pt15 vediamo vediamo Cave L'obiettivo è cave Proprio cave E vabbè siamo qua Siamo qua per il content Chi ce ne frega a noi Cave Ciao Davide Abbiamo appena trovato Baizu Pt15 nel banner di Ganyu Pt25 Sì garantito Ci sei Keqing Garantito Sì Top Stop Garantito per il prossimo Stop Va bene va bene c1 cave Garantito e ci sei Keqing A posto 70 Yes 70 Oh Oh Una volta tanto Un early Allora 61 Dai vai su subito 62 Ciao Fisher 63 Sì Fermi Dai Fermi Ce ne sono ancora 6 Ce ne sono ancora 6 Dai Non si sa mai Va bene 79 E tu mi dimentico Di affermare lì Eccoci Eccoci Fermi tutti Quante ne sono uscite di queste Quante ne hai Oh mio dio Oh mio dio Siamo neri Sostituitori di neri Sostituitori di neri Di Rhaenyra Noi Targaryen Let's go Ok ne va pt40 Oh Zitti 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 Aiuto Zitti 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 Allora Aspetta forse c'è il bless Forse c'è il bless fuori dalla porta Che vuole entrare Sì C'è il bless che sta entrando in camera Prego Prego Entri entri Venga a blessarci È arrivato È entrato quello che blessa Vai Possiamo andare Ok Questo è 31 32 Basta C5 33 34 È entrato fallino Il bless Fallino Un altro punto Ti devi fare perché si va a 60 E poi si va di singole Esattamente Comunque complimenti Oh mamma Stavo per dire L'arma di Naida Dove sta Mi mancava Mi va bene Ok va bene Va bene Magari c'è un'altra Questo no Mi volevamo l'arma di Naida E da noi 76 Eccola Eccola Dai Dai Non ce l'avevo però Basta Però basta Skyward Basta Skyward Allora oggi la Esther Appena ha completato Il set delle Skyward C'è qualche Martina In tutte le chat Che ha vinto Oh Esther Ma te i Piti Non sai che cosa sono? Cioè Davide a quanto siamo? Eravamo 29 Eravamo 29 Questa qua è la 31 Ma porca miseria Esther Ma io ti giuro Tanto lo perdo questo Tranquilla Perché non è destino È destino È destino È destino Questa è la muti del 5 stelle Ma io non voglio più base Voglio camera Magari ci sono tutti e due Oh 75 Eh cosa vogliamo? Allora A me mancano degli ecici Quindi degli ecici sono perfetti Il top Il top No Qualche costellazione di Tiggy Perché Tiggy lo uso Ok Tiggy lo uso Tutti gli altri No A posto A posto Ok Il dubbio Mamma Mamma Mi dissocio dalle minacce pubbliche Tra l'altro Ok 75 Io non guardo Quindi devi dirmi tu Ok 76 77 78 79 Aspetta ma come facciamo a capire che si deve fermare? Io lo dico io fermati Io lo dico io fermati 80 Vai Vai all'80 Ok 81 Oddo cazzo è? Oh Che è qua 82 È Ayaka Eccola Che cos'è? Apri gli occhi Chichi? Ci siamo Ci siamo Ci siamo 75 76 76 77 78 C6 Fischel 79 Yes Siiii Allora Pt5 Andiamo a Pt15 Multina In cerca In cerca Di un cave Vabbè Stella Oh Nel caso Se è lui Ci uno Se non è lui Hai garantito Che Comunque Comunque Vada Io Direi bene Cioè nel senso Bene Cioè quando le cose vanno bene Bene No Cioè Va bene Allora questa proprio Sì Questa è la Pt6 7 E voglio dire Che pt era 8 9 10 Ecco Eccomi Ora mi faccio riconoscere Eccomi Eccomi Ora sì Ora mi sento Ora mi sento bene Bene Stella Sono molto contenta Che ti ho trovato Diluc Come mio solito Però hai il garantito Hai il garantito A pt10 Pt10 Come la mia costellazione Letteralmente Bene Molto bene Pt10 Garantito Ottimo Stella Vada Let's go Doppio Baizu Percependo Doppio Baizu Alla ricerca di Tori Doppio Baizu Ho detto Quattro stelle Chissene 76 77 78 79 Eccolo Molto bene Sbancato L'hanno sbancato Quindi vediamo Fede Se li farai sbancare O li griffi tutti E fai uscire Baizu Nella prima singola Di questa multi Eccoci 5 stelle intanto Sono solo 7 I votanti E noi siamo sicuri Eccoci Hai vinto un sì La Fede li ha griffati tutti Pt75 Volevano Volevano Ma la Federica Ha detto No 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 Rende i punti Dopodotto questo premio Rende i punti E vediamo se ce n'è Un secondo Ci siamo Oddio Ci siamo Ci siamo Ci siamo Aiuto Che cos'è Io morta Io morta Non mi uccidere Io morta Io morta Morta Non mi uccidere Che non mi uccidere Non mi uccidere Ok 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 La 75 è liscia 76 77 78 Abbiamo chiamato Il Crio sbagliato Qui c'è una Cioè qui c'è una Questione di principio Ragazzi Crio sbagliato Ora 4 singole E poi la multi Voi chiamate Allora PT7 Edz 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 Dicevamo 5 stelle Ok 75 75 Liscia Mico grazie per il follow Su tiktok Ciao moon hunter Piacere di conoscerti Dai 76 77 Yes Si 5 stelle PT74 Ci siamo Ok PT75 Non è uscito Baezu 76 77 78 79 89 80 Eccolo qua PT80 Però non siamo sicuri È molto Nel dubbio Infatti Infatti Era la prima singola Ragazzi Albi mi aveva appena scritto Come armi Lo skyward Darp O il lost Prayer Sotto Eccoci Yes Presa Continua